Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo che questa settimana si è riunito a Strasburgo in seduta plenaria. Il Consiglio europeo di fine giugno avrà sul tavolo lo scottante dossier del quadro finanziario pluriennale su cui gli stati membri e il Parlamento non riescono ancora ad accordarsi. L'Assemblea chiede più risorse e integrazione mentre capi di Stato e di Governo sono restii a destinare altro denaro all'UE. L'Aula ritiene il progetto di riallocazione delle risorse proposto dal Presidente Van Rompuy insufficiente e poco lungimirante. Roberto Gualtieri è intervenuto durante il dibattito con Consiglio e Commissione. Ascoltiamolo. Il Consiglio europeo di giugno ha suscitato grandi aspettative. I cittadini europei aspettano misure concrete per la crescita e l'occupazione giovanile e attendono di capire se l'Unione intende dotare la propria moneta di un vero governo economico. Temiamo che saranno delusi. I progressi sull'Unione bancaria sono importanti ma il meccanismo di risoluzione deve essere europeo e guidato dalla Commissione, il che è perfettamente possibile sulla base dei trattati. L'attenzione che sarà dedicata all'occupazione giovanile è positiva ma al di là dell'anticipo a gennaio dei 6 miliardi della Youth Initiative serve un chiaro impegno all'aumento di quella cifra e invece il negoziato sul bilancio è bloccato per colpa del Consiglio e degli imperativi di politica interna degli Stati membri. Anche lo scorporo di una parte degli investimenti dal deficit strutturale rischia di essere molto modesto. Infine, della tanto attesa roadmap per l'autentica Unione economica e monetaria si è persa traccia e si va verso una seconda proroga. Tutti gli elementi più ambiziosi, come il fondo di redenzione del debito, la capacità fiscale sono spariti dall'orizzonte. Persino su contratti e meccanismo di solidarietà il Consiglio europeo non è in grado di procedere e dice la Commissione di presentare una seconda comunicazione. Potremmo gioirne, visto che i contratti non ci piacciono e abbiamo proposto un modello alternativo, ma invece consideriamo lo stop a una proposta legislativa preoccupante. È chiaro che il tanto sbandierato metodo dell'Unione non funziona. Il Consiglio europeo sembra ostaggio degli Stati membri e delle loro scadenze elettorali e al tempo stesso vuole tenere in ostaggio la Commissione, dicendo ad essa cosa può o non può fare. Per questo il Parlamento voterà una risoluzione molto critica, in cui ribadisce le proprie proposte, a cominciare da un forte pilastro sociale dell'UEM con stabilizzatori automatici e in cui chiede di agire presto e sulla base del metodo comunitario, cioè dell'unico metodo che consente di realizzare progressi solidi e duraturi e di dotare il governo dell'euro di quel carattere democratico indispensabile per la sua efficacia e per la sua legittimità. L'Unione europea ha avviato un ampio programma di contrasto alla povertà che passa per l'istituzione di un fondo di tutela per le persone che versano in stato di grave indigenza. Il gruppo dei socialisti democratici sta portando avanti una grande battaglia affinché i fondi messi a disposizione dalla Commissione siano sufficienti e vadano sempre a sostegno dei più bisognosi. Ascoltiamo gli interventi in aula di Patrizia Toia e Silvia Costa. Ringrazio di cuore la collega Castello perché concretamente il fondo è una risposta dell'Europa ai bisogni materiali dei suoi cittadini. È come se noi avessimo accettato di mettere gli occhiali giusti e di vedere la realtà com'è e non come la sogniamo. Ma vergognosamente, anche io uso questa parola come il collega che mi ha preceduto, i paesi del blocco non vogliono mettere gli occhiali e non vedono che la realtà ha fatto il contrario delle nostre strategie e i poveri sono aumentati di qualche milione in questi ultimi anni. Di fronte a questa miseria di esclusione noi dobbiamo soddisfare i diritti vitali come il cibo, ma anche fare un aggancio di accompagnamento per realizzare quell'inclusione sociale che è parte essenziale dell'idea stessa di Europa, attraverso la complementarietà di questo fondo con quelli strutturali e il fondo sociale. Il fondo deve essere rapido, snello, efficiente, come si diceva, deve agire attraverso le ONG che sono numerosissime in Europa e che dobbiamo ringraziare per il prezioso lavoro, ma oggi dobbiamo anche prendere un altro impegno. Il budget del fondo deve essere adeguato, non inferiore al passato e deve essere un fondo obbligatorio. Io credo che sia un debito morale che l'Europa ha di fronte ai suoi cittadini più svantaggiati. Con questa relazione il Parlamento europeo dà un forte chiaro segnale in questa drammatica crisi che vede aumentare il numero dei poveri della volontà di incrementare il fondo di aiuto alimentare più indigenti, mantenendo però la centralità della distribuzione di cibo, ma integrata con altre misure di assistenza sociale, specie per gli homeless, per le famiglie e i bambini più deprivati. Abbiamo voluto rendere snelle le modalità di questa distribuzione, rafforzare la cooperazione con le ONG attive, e sono tante in questo campo, e ampliare anche le misure per ridurre gli sprechi e per rafforzare i network e le reti di distribuzione di cibo ad un accessibile, ma anche quello di consentire anche una maggiore autonomia per le famiglie rispetto a una totale dipendenza. La riforma della politica agricola comune è uno dei grandi temi di questa settima legislatura europea. Tuttavia, il complesso negoziato sul quadro finanziario pluriennale e le politiche di austerità imposte dagli Stati membri stanno mettendo a rischio una serie di programmi europei fondamentali, tra cui quelli che vanno a sostegno diretto dei piccoli agricoltori. Paolo De Castro è intervenuto in aula per denunciare il comportamento irresponsabile del Consiglio e chiedere provvedimenti urgenti che non vadano a colpire i lavoratori di un settore già gravemente messo in difficoltà dalla crisi. Voglio dire con chiarezza e forza che il Parlamento non può accettare che il taglio dei pagamenti diretti sia basato sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio. Si tratta di un accordo politico che non è stato ancora approvato dal Parlamento europeo, così come previsto dal Trattato. Troviamo inaccettabile che si scavalchi l'istituzione con la massima legittimità democratica per penalizzare in maniera così consistente gli agricoltori europei. In attesa di un accordo, il taglio dei pagamenti diretti dovrebbe basarsi sul massimale per il 2014 indicato dalla Commissione nella sua proposta sul quadro finanziario pluriannale, che è coerente con il mandato negoziale approvato da questa plenaria sul regolamento dei pagamenti diretti. Inoltre, la Commissione Agricoltura, che ho l'onore di presiedere, non ritiene che tutti gli agricoltori debbano essere penalizzati con la stessa percentuale di taglio al di là della loro dimensione e da quanti aiuti ricevono. Non ci sembra equo e ragionevole ed è per questo che riteniamo di dover esentare gli agricoltori che ricevono fino a 5.000 euro di aiuti. La trasparenza del bilancio delle aziende è fondamentale per operare nel mercato interno, ancor più quando si lavora in settori delicati come quello delle materie prime. Il Parlamento Europeo ha votato due regolamenti che rendono più severe le norme da applicare, dall'obbligo di dichiarare i pagamenti effettuati o ricevuti da enti pubblici fino al divieto di effettuare operazioni finanziarie troppo rischiose. Il testo votato crea un impianto legislativo che permetterà ai cittadini di essere più informati e più sicuri. Sergio Cofferati è intervenuto in aula. Sentiamolo. Anch'io credo che il risultato al quale è giunta questa discussione sia molto importante e ne va dato atto in primo luogo ai due relatori. Vorrei sottolineare peraltro un punto specifico che è quello che porta le industrie strattive e forestali a riportare ogni loro pagamento fatto ai governi. Questo consentirà alle comunità dove queste attività sono robuste di poter pretendere che questi pagamenti si traducono in azioni per lo sviluppo e per la crescita. Vorrei dire però al Commissario una cosa specifica per quanto concerne le ipotetiche nuove leggi di trasparenza per le imprese. Trovo il tema importantissimo da sviluppare, da rendere finalmente disponibile, ma credo che non sia questo l'ambito nel quale cercare di introdurre l'argomento. Come lei ha detto prima, penso che nel completamento della discussione sulla responsabilità sociale delle imprese, tutte le informazioni non direttamente economiche debbano comprendere anche questo punto. Si tratterebbe così di rafforzare provvedimenti già decisi dal Parlamento e in ogni caso di renderli coerenti. Il Parlamento europeo ha votato una proposta di regolamento per definire meglio le caratteristiche, l'etichettatura e i requisiti degli alimenti ad uso medico o sanitario. Purtroppo nel testo non vengono contemplati gli alimenti senza glutine, fondamentali per gli affetti da celiachia. Mario Pirillo ha sostenuto le ragioni per cui il non inserimento dei cibi gluten-free è un errore politico e sanitario. Ascoltiamolo. Il glutine è ampiamente diffuso e presente in moltissimi prodotti alimentari. Sono in costante crescita in Europa i casi di indolleranza e di allergie verso questa sostanza lipoportreica. È inaudito che il Consiglio non tenga conto dei celiachia che sono una fascia di consumatore a rischio. Difatti il mancato inserimento dei prodotti che hanno un profilo nutrizionale simile al glutine tra gli alimenti a fini medici rischia di penalizzare ulteriormente i tantissimi cittadini europei che soffrono di celiachia. L'Unione Europea con il regolamento che ci apprestiamo a votare fa perdere ai celiachia l'occasione per una maggiore tutela. Il quadro normativo che ha lo scopo di tutelare con opportune informazioni la fissazione di regole specifiche i consumatori vulnerabili scludi i celiachia. In ogni caso è meglio abbondare. Per questa ragione voterò gli avventamenti del gruppo EFD. Grazie. Dopo un anno e mezzo di lavori arriva in aula il rapporto di medio termine della Commissione speciale sul crimine e sul riciclaggio di denaro. Rita Borsellino, relatore ombra per il gruppo S&D, è intervenuta in aula spiegando le linee guida che dovranno essere seguite dall'UE per contrastare e combattere la criminalità organizzata transnazionale. Sentiamo il suo intervento. Il rapporto di medio periodo che voteremo domani in plenaria costituisce un primo passo importante compiuto dalla Commissione speciale crimine dopo mesi di molto lavoro e di molte audizioni. Mi preme sottolineare il fatto che si tratta soltanto di un primo passo e che ancora purtroppo è lungo il cammino che dobbiamo compiere per diffondere in Europa una cultura della legalità e per fare valere il principio che le mafie non sono un fenomeno locale ma sono un fenomeno globale e come tali devono essere trattate. Tra gli strumenti e le misure da adottare a livello europeo suggerite dal rapporto vorrei ricordare ancora una volta in particolar modo la definizione comune di criminalità organizzata e corruzione, l'armonizzazione della normativa penale, l'abolizione del segreto bancario, la trasparenza negli appalti pubblici e in particolare la creazione di una lista nera di compagnie coinvolte in reati di corruzione e il divieto per cinque anni di partecipare a gare pubbliche per quegli operatori economici che hanno commesso reati legati alla corruzione, al crimine organizzato e al riciclaggio. Poi l'istituzione di un procuratore europeo che è stato più di una volta citato, l'inelegibilità al Parlamento europeo e ad altre cariche europee di persone condannate per reati riguardanti la corruzione, il crimine organizzato e il riciclaggio e anche norme severe contro i crimini ambientali e ancora la richiesta di una normativa ad hoc per la protezione dei testimoni di giustizia e delle vittime della tratta. Ringrazio il relatore per il suo lavoro e spero che questo rapporto sia la base per la stesura di un rapporto finale ancora più ambizioso, che delinea una chiara strategia europea per contrastare il crimine, la corruzione e il riciclaggio. L'impegno delle forze europee in Afghanistan è ancora intenso. Solo la settimana scorsa un militare italiano è stato ucciso durante un attentato, mentre la situazione istituzionale del paese rimane molto precaria. L'UE e tutti i partner impegnati per la ricostruzione del paese stanno lavorando per garantire agli afghani un futuro migliore e condizioni di vita accettabili, mentre il rischio di attentati e scontri rimane molto alto, soprattutto nelle regioni sud del paese. Pino Arlacchi, relatore del testo del P.E. sulla situazione in Afghanistan, è intervenuto nel dibattito con l'alto rappresentante Ashton. Ascoltiamolo. Presidente, commissario, sono relatore per l'accordo di cooperazione dell'Unione Europea-Afghanistan. Abbiamo chiesto per l'iscrizione di questo punto all'ordine del giorno perché, nonostante gli obblighi di informare il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati, non siamo stati informati adeguatamente. In varie occasioni, insieme ai relatori Ombra, abbiamo indicato le priorità che vorremmo figurassero nell'accordo. Ma purtroppo non abbiamo ricevuto alcun riscontro significativo. Le nostre richieste sono ben note. C'è stato anche un sostegno da parte della maggioranza di questo Parlamento all'interno di relazioni e di risoluzioni adottate dal 2010 da questo Parlamento. Per quanto riguarda le preoccupazioni, prima la qualità dell'aiuto internazionale e dell'efficienza di questa catena della fornitura. Abbiamo ribadito, e questa è la seconda preoccupazione, abbiamo ribadito che vorremmo che ci fosse un piano di eliminazione dell'oppio in cinque anni attraverso delle culture alternative, attraverso un ufficio dedicato con un proprio bilancio e personale e in base a una stretta collaborazione tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, la cui popolazione è diventata una notevole vittima dell'eroina afghana. E questo piano è estremamente urgente perché molti dei fondi usati per le misure contro il narcotraffico non hanno avuto impatti significativi nella lotta contro tale traffico. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS